Il digitale non è un'opzione, è una leva strategica che promuove lo sviluppo economico e la crescita del Paese. Penso che quindi l'agenda digitale sia uno strumento, un mezzo e un fine con cui governare l'innovazione e la digitalizzazione nel nostro Paese. Individuo due ambiti principali di azione, una quella del processo di regolamentazione, supporto normativo, sviluppo, favorire un ambiente che favorisca lo sviluppo di iniziative digitali nel mercato e iniziative del privato. L'altro, in un Paese in cui la pubblica amministrazione gioca un ruolo così importante, utilizzare la macchina pubblica come motore, come driver di innovazione e di cambiamento. Circo un'impresa su tre oggi nel Paese ha rapporti con la pubblica amministrazione. Si parla tanto di formazione, di cultura digitale. Penso che un'APA veramente digitale, veramente trasparente, veramente interconnessa, sia un fattore di crescita per l'intero sistema che con l'APA, cittadini, imprese, professionisti dialogano quotidianamente. Bisogna assolutamente incentivare il personale pubblico a sentirsi parte del processo di cambiamento e non, diciamo, un problema, ma motivare e creare orgoglio del personale pubblico. Ci sono in Italia competenze eccezionali che vanno messe a sistema. Prima di tutto ritengo sia importante affrontare il tema della interoperabilità, della interconnessione delle banche dati, mettere a sistema il patrimonio informativo che l'ente oggi dispone, imprese, cittadini e farli creare valore. Questo è un'attività forse cosiddetta di back office, un po' nascosto, ma è il presupposto per la trasparenza, l'efficienza, la semplificazione, tutti i temi alla page di cui oggi parliamo. D'accanto a questo sicuramente un tema sulla dematerializzazione e la conservazione. Fare iniziative di dematerializzazione senza pensare alla conservazione vuol dire lasciare molti enti di dimensioni piccoli in valia di competenze e capacità di investimento complesse che non tutte hanno. Quindi individuare nel sistema di implementazione di questi obiettivi strategici veramente un'azione sinergica del sistema peso, individuare le best practice che possono cavalcare e possono sviscerare tematiche complesse, hanno la competenza per farlo e agiscono e lavorano in maniera coesa e coordinata con il resto della pubblica amministrazione. Ritengo che per fare un'agenda digitale efficiente ci voglia un maggior utilizzo della sinergia pubblico-privato, dei bandi precompetitivi e di tutti gli strumenti che oggi sono usati ancora in maniera molto modesta, un miglior utilizzo dei fondi europei e anche dei fondi italiani al fine di creare un'innovazione che sia manutenibile, sostenibile con progetti di gestione e assistenza che lasciano un valore sul territorio.